Il Lab delle competenze, oggi c'è questa presentazione del progetto e anche delle strategie che l'Aggiunta vuole mettere in campo, sta mettendo in campo. In particolare le strategie territoriali, il Lab delle competenze lo presenteremo col Ministro Zangrillo al prossimo 1 luglio. In realtà è un progetto già avviato, lo scorso anno, questo è il primo anno di check, di confronto e di verifica del lavoro fatto. Partono invece oggi con circa 80 milioni quasi equamente suddivisi, le strategie territoriali sono una quota parte riguardo alle aree urbane, le grandi città con le loro città territorio, con il loro contorno di comuni di cui le grandi città, i capoluoghi e i grandi centri urbani fanno da capofila e le aree interne, le aree marginali, le cosiddette aree interne che anche lì con comuni capofila vedranno la possibilità di accedere a decine di milioni di finanziamenti in questi anni per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e quindi il marketing turistico e la promozione del territorio anche attraverso i prodotti tipici. Insomma ci attendiamo dai comuni e dal territorio una importante partecipazione a questo avviso che abbiamo costruito in questi mesi attraverso il partenariato con gli enti locali per definire quali erano le strategie e gli obiettivi di massima e ora parte quindi anche questa fase dell'utilizzo dei fondi europei, siamo perfettamente nei tempi della tabella di marcia nell'utilizzo dei fondi europei e la regione quindi mette in campo nuovi strumenti per lo sviluppo del territorio.